Istituto Santa Maria, il piacere di essere studente. L'Istituto di istruzione Santa Maria è una scuola paritaria prestigiosa attiva in Monterotondo fin dal 1970. Gode del riconoscimento legale della parità in base alla legge 62 del 2000 ed è frequentata ogni anno da oltre 250 ragazzi. Moltissimi dei nostri ex alunni sono diventati affermati professionisti nei più svariati settori, grazie anche alla qualità dell'insegnamento ricevuto dai nostri docenti, che non perdono mai di vista lo scopo educativo per una completa formazione della personalità. L'Istituto Santa Maria propone due indirizzi di studio, Istituto Tecnico Aeronautico e Liceo Linguistico per le Arti dello Spettacolo. Tali indirizzi sono in grado di soddisfare i desideri e le aspettative dei giovani, preparandoli adeguatamente sia per l'inserimento in settori lavorativi nuovi e sempre in crescita, che per il proseguimento degli studi a livello universitario. La sede, progettata appositamente come scuola, mette a disposizione dei ragazzi strumenti innovativi e laboratori modernamente attrezzati, avvalendosi inoltre di strutture esterne per l'approfondimento di alcune discipline o specifici argomenti, oltre che per attività sportive. Nell'ottica della nostra filosofia di insegnamento, l'alunno è protagonista attivo del proprio sapere ed è seguito dai docenti in modo da coinvolgerlo in tutte le attività scolastiche. Il Santa Maria ha ottenuto il certificato di qualità ISO 9001 e può vantare una prestigiosa tradizione grazie anche al valore e alla professionalità del corpo docente, del personale amministrativo e di tutti i collaboratori interni ed esterni all'istituto. L'istituto tecnico aeronautico rappresenta la scelta migliore per chi vuole entrare a fare parte del mondo dell'aeronautica civile o militare. Oltre alle classiche materie scientifiche e letterarie, vengono impartite discipline specifiche nel campo aeronautico quali radar tecnica, navigazione aerea, meteorologia, diritto aeronautico e controllo della circolazione aerea. La lingua inglese è insegnata con particolare cura per le comunicazioni aeronautiche. Gli allievi possono conseguire al termine dei cinque anni di corso, oltre al diploma di perito tecnico aeronautico, anche il brevetto di pilota civile, di aereo o di elicottero. L'istituto, inoltre, dispone di laboratori specificamente attrezzati, come il simulatore di volo e di moderne tecnologie informatiche. L'aula magna, dedicata al generale ingegnere Luigi Broglio, dispone di un impianto per la proiezione su schermo gigante ed è utilizzata per lo svolgimento di conferenze tenute da professionisti del settore. Grazie a un'apposita convenzione stipulata con l'aeroporto dell'Urbe, durante il terzo, quarto e quinto anno di studio, gli allievi possono effettuare ore di volo ed apprendistato di navigazione aerea per il conseguimento della licenza di pilota civile. Inoltre, l'istituto è uno dei migliori biglietti da visita per chi volesse accedere all'Accademia Militare o proseguire gli studi universitari nelle facoltà di Ingegneria Spaziale, Fisica, Meteorologia o Scienze Nattiche. L'istituto tecnico aeronautico offre innumerevoli possibilità di lavoro in un settore in continua espansione, quali pilota, controllore di volo, manutentore di velivoli ed altre ancora. L'istituto tecnico aeronautico Santa Maria è l'unico in Italia in grado di far conseguire agli studenti sia la licenza di pilota di linea, di aeroplano o di elicottero, sia un attestato utile per quella di manutentore aeronautico. In base alla convenzione con la scuola di volo Aviomar, aeroporto Roma-Urbe, il corso di studi per il diploma è riconosciuto dall'ENAC, Ente Nazionale e Aviazione Civile, come corso teorico per la licenza di pilota di linea. Gli studenti svolgono solo il corso di addestramento pratico al pilotaggio presso l'Aviomar, con condizioni economiche molto favorevoli. Inoltre l'istituto tecnico aeronautico Santa Maria, contemporaneamente al diploma, è certificato dall'ENAC per il rilascio ai propri studenti dell'attestato di 5 moduli istruzionali che fanno parte dei corsi di manutentore aeronautico. Liceo linguistico per le arti dello spettacolo dedicato ad Alberto Sordi. Abbiamo voluto dedicare il liceo ad un amatissimo attore italiano che è stato capace di rappresentare la nostra cultura nazionale in tutte le sue sfaccettature e che da sempre rappresenta un'icona del cibo. Il liceo propone, oltre al tradizionale percorso umanistico e linguistico, anche discipline specifiche per l'indirizzo arti e spettacolo, con l'obiettivo di orientare gli studenti nel variegato ed affascinante mondo dello spettacolo. Vengono infatti proposte materie complementari, quali critica cinematografica, regia e montaggio, tecniche di ripresa, sceneggiatura, dizione e recitazione. Gli insegnanti titolari di queste cattedre sono tutti affermati professionisti nel campo dello spettacolo. Nel corso degli anni di studio sono previste numerose attività pratiche e teoriche, curate da noti professionisti dello spettacolo, attori, registi, cantanti. Primo giorno di scuola, primo giorno di scuola, bello, bellissimo, primo giorno di scuola. Grazie. Ha frequentato l'Istituto Santa Maria, ma nel frattempo ha fatto un sacco di cose. La voce originale in italiano di Nemo, non gliela faccio fare perché l'ha fatta migliaia di volte e poi soprattutto negli ultimi anni diceva, però insomma, la voce mi è cambiata. L'Aula Magna, fornita di Maxi Schermo, è polifunzionale per le lingue e per l'informatica. Viene inoltre utilizzata sia per la proiezione di film che per conferenze e incontri con noti personaggi del settore. Il laboratorio dispone di impianto luce, di telecamere professionali e di specifiche attrezzature informatizzate per consentire agli allievi di apprendere le principali tecniche di recitazione, ripresa e montaggio in un ambiente avvincente e creativo. La scuola si avvale di strutture teatrali esterne per la rappresentazione di saggi e spettacoli organizzati dagli allievi con l'assistenza dei docenti. La recitazione include l'esibizione in presenza del pubblico e in ogni caso costituisce un'efficace esperienza formativa della personalità dell'individuo, al di là di un'eventuale affermazione professionale nel settore dello spettacolo. Il liceo linguistico per le arti dello spettacolo, grazie al proprio piano di studi, è indicato anche per accedere a facoltà come lingue, scienza della comunicazione, DAMS per le discipline arti, musica e spettacolo, accademia di arte drammatica, centro sperimentale di cinematografia di Roma, corsi di specializzazione per il montaggio, per tecnico del suono o delle luci, per il doppiaggio. La stessa città di Roma è un'importante sede di innumerevoli attività relative al mondo dell'arte e dello spettacolo, oltre alla presenza di reti televisive e case di produzione cinematografica. Il liceo linguistico per le arti dello spettacolo costituisce un'ottima opportunità per i giovani che desiderano avvicinarsi alle varie carriere artistiche e professionali nell'ambito del mondo dello spettacolo. Regista, montatore, sceneggiatore, tecnico del suono e delle luci, attore, presentatore, cantante, doppiatore e molti altri. La scelta di oggi è decisiva per la tua formazione e per il tuo futuro. L'Istituto Santa Maria è in grado di offrire due differenti percorsi formativi con la stessa vitale filosofia, che è quella di contribuire alla formazione della personalità dei giovani, orientandoli verso settori lavorativi avvincenti e ricchi di opportunità per il futuro. Gli allunni di regia del liceo linguistico arti dello spettacolo partecipano spesso a stage formativi, realizzando video in molti convegni nazionali della Filins, federazione italiana, licei e istituti non statali, con la presenza del ministro dell'istruzione, dei responsabili delle scuole e dei vari partiti politici, di giornalisti e media. In tutta Italia, da Taormina a Desenzano, in Sardegna e soprattutto a Roma, alla sede del tempo e nella sala delle colonne in Parlamento, svolgendo già le figure professionali del loro futuro, operatori, fotografi, giornalisti, hostess, tecnici audio e registi. Per avere maggiori informazioni è possibile consultare il nostro sito web all'indirizzo www.santamaria.it o rivolgersi direttamente all'Istituto in via Ticino 45, Monte Rotondo, Roma. Istituto Santa Maria, il piacere di essere studente. www.santamaria.it o rivolgersi direttamente all'Istituto in via Ticino 45, Monte Rotondo, Roma. Grazie a tutti.